Ciao, mi chiamo Alessandro, sono un attore, vivo a Milano ma ho origini siciliane, quindi parlo anche siciliano perché il mio page e il mio mage sono di Messina e a casa si è sempre parlato il dialetto Ho vissuto per un periodo della mia vita in America Sono tornato quindi appunto in Italia e ho iniziato i miei studi di recitazione mi sono diplomato presso il centro studiattori, poi ho studiato anche con John Strasberg Canto, sì, non sono un cantante però sono intonato, mi piace molto il jazz, mi piace molto Chad Baker Ho studiato anche danza contemporanea e teatro danza L'ultimo lavoro come attore in teatro è stato per Amleto Rock con la regia di Elina Galli Invece l'ultimo film a cui ho partecipato è Torta Paradiso dove ho partecipato appunto come attore protagonista e il cortometraggio poi è stato selezionato nella categoria noir al Fernando Di Leo Film Festival Vi faccio vedere i miei profili Vi faccio vedere i miei profili